Un po' di paura c'è, ci sta. Meno tre, dai, dai! Stricta tre, dai! Credo meno quattro, non so se l'ho ucciso. Ora vediamo la feed. Feed, feed, feed. Oh! Dai! Mamma lì sa! Pam! Questa mappa è tanto bella, però va giocata tipo, capito? Non penso... Penso che siamo pochi. Cioè, ne siamo tipo... Sei, capito? Non ne siamo a dieci. Quando è dieci è troppo incasinata, è troppo piccola. Muori troppe volte. Te lo sape, a me spawnò a dieci. Stai, smette qua per fare spawn kill. Cringissimo. Va bene. Non vedo problemi in questo gioco, sono degli spawn comunque. Hanno pochi spawn e ovviamente c'è... C'è gente che li campera. Ah, si mettono proprio fermi e che li campera. Non furo. Vado? E' tipo, ma questo è rispawnato là, capito? Lo volevo killato prima e ha rispawnato là. Ma inizialmente ti mettono i camperati qua sotto. Questo dovrebbe essere il pompo. Ok. Cioè, è tipo ora se io resto qua a fermo, no? Ma vi faccio un esempio. Sto qua a fermo tipo 20 secondi. Dovrebbe spawnare uno qua. Eh, tipo dopo dieci secondi spawno qualcuno. Ok. Quindi si mettono fermi qua nel buio. Fattano le spawni. Boom. E non lo killi perché in sé sa è mortale. Però ho capito. Eh, fanno così. Quindi diciamo un po' la dottura dei cazzi. Non so perché non è morto a me quello. Ho due pompate, però. Credo che forse c'è più un po'. L'imvulnerabilità forse. E questo è l'unico problema del gioco, il spawn. Poi per il resto è... Una figata comunque. E' veramente figo come ciò. No, ovviamente in Italia non capiamo un cazzo. In Italia sappiamo due cose. FIFA, Call of Duty. Basta. Giochi nuovi del suo genere. Ah, è incredibile. E' vero come questo gioco non faccia... E non vada virale, non giochino. Veramente strano però. Non è. Poi lo che gli spawn fanno vomitare. Altro piccolo problema potrebbe essere che le persone... non hanno un PC adatto. Però sincero, boh, 3060 che sta a 300 euro. Ci giochi in 120 fps. Io sto pure in doppia stream ora, eh. Quindi... La moda di FPS non me li fa vedere. Non so perché ma non posso vederli. Cioè, se li attivo ora... Non me li fa vedere. Ma si può morire da distanguamento, tipo... Distanguamento, tipo... Non si muore, eh. E' veramente giocato in amicizia con gente. Ecco, è. Lo sapete. Ti chiedo lo sapete se c'è la staglossa. Palle, bravo. Dai, finisco un attimo il game. In live però short va bene il gioco, eh. In live short va bene, però in live sul pitch no. Ovviamente. Cioè, proprio quando dovevo registrare il video... Non c'è che farlo. Ah, questa ancora va dentro... Dentro casa così. Ma di realtà... Sembra da bene. E' solo quel piccolo lag di prima, mi sa. Prima, l'ho allaggato solo un po' prima. Niente, come qua gli spawn sono... Sono la morte del gioco. Guarda questo! Ah, sta ancora là! Sta ancora là! Ok, capite perché? Vi dico che gli spawn sono la morte del gioco. Perché, vada qua. Eh, spawni e mori, spawni e mori, spawni e mori, spawni e mori, spawni e killi, spawni e mori. Eh, boh. E' un po'... Un po' così. Ecco. Ciao